Ehi la a tutti raga, siete ancora insieme al vostro Pokeshine sempre online sul mio canale perché dopo l'apertura dei 10 pacchetti di diamante e perla a fronte di tempesta vi porto l'apertura di 9 pacchetti di platino l'ascesa dei rivali diciamo che diamante e perla a fronte di tempesta non è andata malissimo vediamo di essere fortunati anche con platino l'ascesa dei rivali vi faccio vedere i quattro design dei pacchetti il codicisolo è bellissimo e iniziamo con l'apertura speriamo bene ho almeno qualche carta, ma anche una super rara, vediamo un po' e abbiamo Whiskosh Radar SP Tropius Carvania Munchlax Growlite Snorlax Nazif Mamoswervers e Jolteon raro beh, iniziamo con una bella rara, bellissimo design proseguiamo ancora non mi stavo portando dietro ok compito di Luciano Glaceon filosofia di Corrado Hippopotas Gleiscor Sia Lio Nazif Foretress Beedrill Reverse è mega raro ancora niente super raro niente oro vediamo vediamo di recuperare Sharpido Starmy Rapidash Nidorina Sidot Drawlite Widow Munchlax Flowsel Oh, è Frosla solo beh non male adesso mi stavo lamentando che non è riuscita neanche una ora benissimo anzi due ho perché una è una onore versus filosofia di Corrado arena virtù pokemon energia metallo Shellos Nidorina Sidot Growlite Widow Hippodown reverse e Hippodown raro bellissimo Dai di Lollosità proseguiamo ancora le carte non volevano uscire Vibrava Infernave Compito di Luciano Quagsire Flareon Sfil Starium Glow Glow Scor Scelta di Plutino Shiny o comunque fuori serie bellissima e Darkrai Olo bel pacchetto anche se scelta di Plutino anche se scelta di Plutino fuori serie ce l'ho già quindi ragazzi per chi vuole come al solito è in vendita Ah questa carta questa carta non mi piace rovinata ed è un Glaceon quindi via e poi abbiamo Rapidash Spedizione Sotterranea Coffing Aerodactyl Evie Nasleaf Nidoran Femmina Bronzog e Gastrodon Raro rimangono tre pacchetti ragazzi quindi io non so se riuscivano a trovare qualcosa in questi tre pacchetti sì che ho trovato una pori serie e qualche Olo però comunque vediamo Whiskosh Energia SP Shizor Nasleaf Ambibum Nidoran Femmina Coffing forse c'è qualcosa Nidorino Compito di Luciano Reverse Uuuh Alakazam a livello X ragazzi questa credo di averla per cui penso proprio di sì perché tutti chi volesse è sempre vendita ragazzi non faccio scambi per il momento quindi per chi vuole è solo vendita Uh c'è qualcosa altro meno male speriamo che non ce l'ho Tropius Vibrava Filosofia di Corrado Ambipom Nidoran Femmina Coffing Nidorino Flareon Iam Mega Reverse Eipodown livello X Questa ragazzi mi sembra che ce l'ho anche non lo so vi direi una sciocchezza comunque sono tutte in vendita mi contattatevi perché è interessato poi se io ce l'ho Ipodown non ce l'ho ve lo dico poi in un momento in cui me lo chiedete perché non me lo ricordo alla Kazama mi pare proprio di sì ma Ipodown adesso ho un momento di questa è rovinata ultimo pacchetto ragazzi abbiamo avuto tutta la fine Vibrava Infernape Tartwig Kakuna Shellos Growlite Nidorina Mamos When Reverse e chiudiamo con un Rampardos olografico allora ragazzi spero che l'apertura vi sia piaciuta rimanete iscrivetevi mettete like commentate perché arriverò ovviamente con altre nuove bellissime aperture ciao ciao raga